Per adesso è normale che giustamente sia stato bloccato il camminato perché penso che la cosa principale adesso è vedere bene come va l'andamento di questa pandemia che da due anni ci dà fastidio. È servito più che altro per dare minutaggio a quasi tutta la rosa. È stato un test importante perché hanno giocato anche ragazzi oggi, soprattutto qui a Penn, i ragazzi che hanno trovato poco spazio ultimamente, soprattutto i ragazzi giovani, hanno fatto molto bene e sono contento. Da quando c'è stata la fine, prima delle vacanze natalizie, ad oggi in Casa Pineto tante cose sono cambiate. Vi state ritrovando, vi state mettendo in moto per la ripresa del campionato? Sì, sicuramente. Sono andati via dei giocatori importanti. Sono stati sostituiti altrettanto da giocatori importanti, altri giovani. Però il campionato per noi le ambizioni sono sempre le stesse, cerchiamo sempre di fare bene. È normale, ci sono squadre secondo me adesso, ad oggi molto più forti di noi, attrezzate molto più di noi. Però noi dobbiamo pensare sempre positivo e dobbiamo sempre cercare di portare a casa sempre il risultato più importante, che è la vittoria, in tutte le partite. Poi è normale, il campo dirà la sua, però ci stiamo preparando bene. Questa sosta un po' ci è servito pure mentalmente, per ricaricarci fisicamente, per aggiustare qualcosina. Però sono contento di quello che abbiamo fatto e speriamo di partire forte domenica prossima a San Benedetto. Vi aspettavate di più dalla prima parte di stagione? Sicuramente, non ci nascondiamo, io per primo ci aspettavo molto di più, però il calcio è questo. Ci può stare, ci può stare, però io sono contento perché alla fine noi le prestazioni le abbiamo fatte. Siamo stati un po' sfortunati in certi episodi, a volte abbiamo fatto degli errori grossolani. Io per primo, dispiace, però adesso dobbiamo mettere da parte il finale di campionato, cioè il finale del giro d'andata, perché non è stato positivo. Dobbiamo pensare a partire forte adesso, subito con la Sommettese, perché incontriamo una squadra forte che non è quella delle prime 7-8 giornate. Adesso è una squadra plena e una corazzata, perché ha dei giocatori importanti in tutti i reparti. Però noi, come Pineto, abbiamo anche il dovere di fare un camminato ambizioso. Dobbiamo cercare, come ho detto prima, di trarre il massimo in tutte le partite. Il mister pensa alle questioni del campo, ma sicuramente se dovesse esserci questa finestra bis di mercato invernale, c'è possibilità di vedere altre pedine in campo a Pineto? Ma questo non lo so, sinceramente non ci credo tanto a questa finestra di mercato. Se veramente riapriamo il mercato, ma noi, penso insieme alla società, adesso noi sappiamo quello che dobbiamo fare. L'abbiamo già fatto e si arriverà qualche, arriverà sicuramente qualche under, perché adesso è questo l'obiettivo nostro, di ringiovanire pure un po' la rosa, perché è anche giusto così, perché dobbiamo anche sfruttare i giocatori che vengono al settore giovanile, i giocatori che abbiamo in rosa, giovani, che sono validi, sono forti. Chiudiamo, i play-off sono l'obiettivo, resta questo l'obiettivo del Pineto in questa stagione. Sì, adesso sì, però come ho detto prima, dobbiamo cercare sempre di fare il massimo in tutte le partite.